amici di paddock tv torno a trovare emilio modeo insieme andrea il figlio antonio che sottraggo alla loro attività quotidiana quella di parlare di vendere moto da sempre un riferimento a saronno e non solo emilio oggi ci parli di un brand interessante anche di questo mi hai parlato con grande passione quando avete cominciato a commercializzarlo e sono curioso di sentire quello che hai da raccontarci il brand in questione è voge voge è un marchio anche lui asiatico cinese importato dalla padana sviluppo che è una realtà con la quale noi lavoriamo da un secolo fra un po' no da sempre perché sono i distributori di kinko che è un marchio leader nel settore degli scooter ormai da anni in italia negli ultimi anni hanno ampliato raggio d'azione padana sviluppo è diventata distributrice di tanti marchi uno di questi è appunto voge importano cf moce distribuiscono cf moto e iadea col discorso dell'elettrico lì fan col discorso dell'elettrico kinko che il loro marchio principale perché da sempre distribuiscono e non solo in italia questo marchio e da questa è la quarta stagione in realtà che distribuiscono voge voge io lo considero anche qui un prodotto di fascia alta cinese anche loro producono per altri brand ben più importanti hanno una gamma capillare non importano tutto quello che hanno in gamma perché altrimenti mi riempirebbero il negozio non per me non lo fanno chiaramente ma perché hanno fatto delle scelte anche qui hanno segmentato i prodotti un po come il marchio che abbiamo presentato l'altra settimana in un'altra puntata certo fanno delle naked in tre cilindrate momentaneamente 125 300 500 fanno delle classiche le naked vengono chiamate brivido le classiche la famiglia delle classiche la famiglia trofeo e anche lì due cilindrate in realtà tre la 300 la tre e mezzo che si diverisce da 300 perché è bicilindrica e la 500 che sta passando a 525 con trofeo e trofeo 525 x e poi la categoria delle delle crossover le valico anche qua due cilindrate momentaneamente c'è in arrivo un 900 a memoria presentato l'anno scorso in eicma che ha fatto un successo incredibile ma come dicevamo anche la volta scorsa il discorso di omologazioni preparazione nel prodotto per il mercato europeo è un po più rilento ma arriverà a breve bellissima anche lei 300 che è la valico 300 una crossover compatta che ho avuto modo di guidare per una stagione quando mio figlio aveva 125 quindi non potevamo andare in autostrada e allora lui col 125 io non aveva senso che usassi una moto di grossa cilindrata mi sono immatricolato un 300 di questo tipo e mi sono divertito ma veramente divertito perché ho riscoperto il gusto il piacere di usare le moto facili le moto leggeri le moto che le usi senza impegno non ci metti la testa vai su e guidi quindi 300 prodotto d'ingresso c'era il 500 che questa dsx 500 che fino ad oggi abbiamo avuto in gamma questa che vedete con le tre valigie che oggi è un fine serie sostanzialmente perché è stata affiancata per il 2023 dalla 525 ds che è stata la sorpresa di quest'anno che francamente ha spaccato un po il mercato nel suo segmento perché è un prodotto anche lui con un rapporto qualità prezzo cioè inarrivabile per tutti dopo vi dico le caratteristiche di questa moto veramente è incredibile cosa sono riusciti a fare con questa moto perché bellissima innanzitutto dobbiamo dire che come per il marchio precedente ormai quello che sono le linee guida lo stile i centri stile sono tutti qui in europa qui se ne occupa proprio in prima persona la padana sviluppo dei nuovi prodotti di voce moto che ha il vantaggio e pregio di avere tutto praticamente di serie e con una cifra come dicevamo da scooter monocilindrico 350 400 stiamo parlando di 5990 euro franco concessionario più spesi immatricolazione messi strada per una moto che ha di serie strumentazione lcd paramani cupolino regolabile paramotore tamponi laterali faretti di profondità di serie cerchi a raggi tubeless cavalletto centrale portapacchi con pianale per mettere un eventuale bauletto fari e frecce a led sto dimenticando qualcosa ma vabbè a parte abs e controllo di trazione disinseribili che non è un dettaglio perché se uno vuol fare anche un pochettino di fuoristrada e divertirsi con qualche strada bianca due pneumatici un pochettino più aggressivi e ti diverti perché pesa poco considera che quando dico poco sto dicendo 30 kg circa meno della moto più venduta d'italia quindi un abisso componentistica di primordine pinze nissin pneumatici metzeler abbiamo abs anche qui bosch a memoria bosch vorrei dirti una cazzata ma dovrebbe essere lei quindi ti dico un oggettino che la gente stenta a credere al prezzo quando glielo presenti non manca nulla è brutto dirlo ma dobbiamo dobbiamo riconoscere se no il mondo andrebbe in un altro modo con un altro marchio ci sarebbero liste di attesa interminabili sul serbatoio perché noi italiani siamo così ancora ieri che era domenica ed eravamo qui a sistemare un po di cose mi sono imbattuto con una coppia che è entrata a chiedere delle moto e quando gli si faceva vedere determinati marchi ci sta a rispetto è scettici perché non conoscendo i marchi a volte ed essendo estranei all'ambiente è evidente che parlare di un marchio blasonato ti riempie la bocca ma quando non sai cosa ti offre certa gente e non sai che questi anche loro producono per quella per quelli bravi e per quelli e per quelli hai capito di spessore ecco qui bisogna ricredersi il prodotto è un prodotto di qualità prodotto come dicevano quelli una volta di livello l'avete sposato da subito quando hanno iniziato a distribuirlo sono è già qualche anno no sì allora noi grazie alla collaborazione che abbiamo da da anni dagli anni 80 appunto con quello che era la padana ricambi che poi è diventata padana sviluppo ci è stato chiesto se ci interessava appunto iniziare una nuova avventura con questo marchio e perché no ci è sembrato i progetti c'erano ci hanno dato dei programmi importanti a attendere e allora abbiamo detto ok si fa e vediamo adesso in effetti che i risultati dopo qualche stagione arrivano tant'è che ad agosto per dire è stata la moto più venduta d'italia consideriamo che è arrivata in italia al mese di giugno quindi quasi sconosciuta ai più e ha avuto subito un forte successo i prodotti mancavano perché in un attimo i lotti che arrivavano erano praticamente già accaparrati e le prospettive sono buone insomma marchio marchio di tutto rispetto anche con loro sono convinto che in ecma ci sarà per modo di dire da ridere perché arrivano con novità importanti ah beh dimenticavo prima io di tutte le famiglie ho tralasciato lo scooter lo sfida 400 prodotto che anche lui qual è quello nero questo ok quello lì il primo sì sì anche lì full led anche questo è un prodotto che in italia era già arrivato un anno fa grazie a un altro costruttore europeo di primo ordine e fai il nome ma è un'azienda che vende le moto col motore boxer per tre lettere e tre lettere ma poi mettili in fila tu fai quello che vuoi però il loro scooter è prodotto da voge quindi anche qui inizialmente arrivano scettici poi quando gli dici che costa comunque qualche migliaio di euro in meno dell'altro e va bene come l'altro sì poi vero non fa lo stesso effetto ma la sostanza c'è e come se c'è ma sai poi dipende se devi andare al bar a far vedere il logo sul sul serbatoio se devi la moto godertela spendere il giusto per 59 90 quel popò di moto lì sai che noi italiani se uno la usa un po' dei bingoli ci piace riempirci la bocca è vero e però è così è così purtroppo così purtroppo per quelli che non ci arrivano a capirlo perché se qua invece siete interessati avete recepito il messaggio di emilio fate un salto perché conoscere la gamma qualcosa in prova avete come test ride la 5 25 diciamo che in prova abbiamo sempre il prodotto di punta per quest'anno è il 5 25 appunto la trofeo la scusa mi la valico non escludo per la prossima stagione di avere anche questa però è la moto che al momento ci stanno chiedendo ed è la più interessante da analizzare insomma anche perché è un segmento dove vede il primo competitor un prodotto che è il più venduto d'italia quindi il riferimento era un altro prima adesso qua stiamo dettando un pochettino nuovi parametri con questo prodotto certo per cui l'invito che vi faccio come sempre fate un salto a trovarli il numero vedete in sovrimpressione 02960 2925 emilio andrea antonio sono a vostra disposizione una grande realtà da sempre presente a sarono grazie emilio grazie come sempre grazie ciao grazie grazie a tutti